Buongiorno a tutti, benvenuti all'Assemblea Nazionale di UPBio, la Unione Nazionale dei Produttori Biologici e Biodinamici, che aderisce a FederBio. Come avete visto nella vostra cartellina, il programma dei lavori di oggi è particolarmente denso e intenso, quindi cercheremo di essere stringati nelle presentazioni e nelle fasi di passaggio. Molto rapidamente, questa mattina, fondamentalmente la mattinata è dedicata al primo workshop dedicato ai problemi della certificazione, dal titolo Bio la certificazione che vorrei, mentre invece nel pomeriggio focalizzeremo l'attenzione sui problemi della commercializzazione, in particolare la commercializzazione fatta dai produttori, con la presentazione di alcune esperienze, il progetto della rete dei punti vendite regionali, ma questo lo vedremo nel pomeriggio. Vi ricordo che nel materiale che avete ricevuto nella cartellina dovreste avere alcune delle relazioni della mattinata, mentre invece il materiale relativo alla sessione dei lavori del pomeriggio sarà distribuito direttamente alla ripresa dei lavori. Io passerei direttamente la parola a Ignazio Cirronis, il Presidente di UPBio, per il saluto e la presentazione delle attività di UPBio. Intanto grazie a tutti i partecipanti e i presenti. Sicuramente questa iniziativa ormai ordinaria da tre anni a questa parte, la terza appuntamento dopo l'Assemblea dei produttori biologici a Milano e poi ancora lo scorso anno l'incontro che abbiamo svolto per l'Assemblea costitutiva di UPBio, vuole essere un momento aperto nel quale i produttori lanciano anche delle provocazioni, ma vogliono discutere con tutti gli interlocutori che sono interessati allo sviluppo del comparto biologico. È importante per noi che ci sia oggi una contaminazione tra il mondo produttivo e gli addetti ai lavori, le istituzioni, i rappresentanti dei vari soggetti della filiera, perché questo non accade di rado. Di solito i convegni sono più che altro frequentati da persone esperte, consulenti, ma anche addetti ai lavori, rappresentanti istituzionali, ma con una presenza di produttori invece molto limitata. Oggi abbiamo già qui presenti diverse delegazioni regionali, alcune ancora in arrivo. Va considerato che molti dei produttori ovviamente si devono spostare dalle diverse regioni, da diverse località, ma quello che è importante è che l'incontro di oggi, anche forse le aspettative che ci sono, visto che addirittura abbiamo sfiorato quasi le 170 registrazioni, poi non so se vengono tutti non c'è neanche il posto, ma comunque è possibile che ci si divida tra mattina e pomeriggio, come credo. In ogni caso le aspettative sono tante perché in effetti c'è necessità di recitare fino in fondo il ruolo che i produttori biologici hanno da diversi decenni a questa parte, perché hanno fatto innovazione, però è un periodo ormai nel quale non sono più protagonisti. Quindi noi vogliamo tornare a essere protagonisti sapendo che dobbiamo mediare con diversi altri soggetti, diversi altri interessi che sono presenti nella filiera, con diverse altre esigenze che sono delle normative, con la necessità di rispettare le regole che si danno a garanzia di tutti, però i produttori devono tornare a essere protagonisti e protagonisti anche nella definizione della qualità, delle caratteristiche dell'organizzazione del sistema di controllo, così come protagonisti nel mercato. E quindi noi siamo molto contenti della possibilità di farlo con tante persone che hanno piacere evidentemente di sentire le nostre suggestioni, le nostre riflessioni e stamattina e questo pomeriggio senz'altro sarà possibile farlo. Vorrei anche dire che come è necessario fare perché la giornata sia produttiva, la pausa pranzo sarà brevissima, poi vi daremo anche delle indicazioni, in modo tale che effettivamente si riprenda alle 14.30, al di là che abbiamo un po' sforato come sempre succede l'apertura, stiamo accorciando comunque un pochino le premesse, i preludi di questo incontro e quindi contiamo per le 13.30, 13.45, ce lo auguriamo di interrompere per poi riprendere puntualissimi alle 14.30 perché vogliamo concludere la giornata per le 17.30 e quindi avremo comunque un po' di tempo per discutere anche delle proposte sul mercato. Voglio ringraziare in particolare il colonnello Maurizio De Lissanti e il luogotenente Carlo Passacautilli, spero di non aver sbagliato i nomi, per l'ospitalità in questa sala che ci è stata offerta e va detto senza alcun onere e quindi questo ci permette di fare un'iniziativa, voglio ricordare che questa non è un'iniziativa che gode di alcun finanziamento pubblico. Ringraziamo peraltro invece le strutture dei produttori e anche le altre che hanno voluto dare un piccolo contributo perché questo ci ha permesso, speriamo, di organizzare al meglio quella che è la discussione e il dibattito di oggi. Quindi auguri di buon lavoro a tutti e possiamo senz'altro procedere con gli interventi programmati. Grazie al Presidente Cirronis che ci ha introdotto, vi ha già dato anche alcune indicazioni più organizzative ma anche un po' inquadrato la mattinata di lavoro. Quindi iniziamo con il primo workshop bio la certificazione che vorrei. Sappiamo tutti quanti che la certificazione è un elemento essenziale della produzione biologica, è tuttora sicuramente un elemento che contraddistingue questo tipo di produzioni rispetto nei confronti dei consumatori che mostrano dai dati anche di mercato che continuiamo ad avere, continuano a mostrare fiducia in questo sistema. Però ovviamente come tutti quanti i sistemi ci sono dei problemi, conosciamo le vicende anche che ci sono state nei mesi passati che hanno messo sotto i riflettori, in questo caso dei riflettori negativi, il biologico. Quindi andiamo a focalizzare la nostra attenzione. Ho fatto il mio primo errore della mattinata perché avevo depennato altri saluti istituzionali, invece con piacere abbiamo la possibilità di avere il saluto di Paolo Carnemolla che è Presidente di Nazionale di Federbio. Grazie, spero vado anche detto che ovviamente vista la situazione politica in questo momento della Regione Lazio è il motivo per cui non abbiamo oggi i saluti dell'assessore e ringrazio di avermi messo fra le istituzioni, anche se probabilmente ormai il cappello bianco e la lunga esperienza in questo settore mi qualifica. Mi fa molto piacere essere qui e fare un primo intervento introduttivo, spero breve, esattamente per il motivo che ha detto Ignazio. Siamo in un momento assolutamente importante per il settore perché da un lato abbiamo la conferma e questo è un settore che ha delle grandi potenzialità di mercato, ha delle grandi potenzialità in un momento di crisi e difficoltà per l'economia e per l'agricoltura nazionale, non solo per chi già c'è e c'è da tanto tempo con fatica, impegno e investimento, ma io credo anche e soprattutto per chi potrà esserci, per quella parte di agricoltura sempre più in difficoltà e in crisi che qui può trovare una prospettiva e visto che qualcuno si deve assumere l'onere in questo momento di fare delle proposte per il futuro del Paese, c'è un bell'articolo visto ieri mi pare su Corriere della Sera di Guido Ceronetti che parla anche di questo, credo che sia particolarmente importante in questa fase che i protagonisti del settore facciano alcune riflessioni sul futuro, perché oggi si parlerà di futuro su quelli che sono i due aspetti chiave da un lato e probabilmente critici in questo momento. Sulla certificazione noi abbiamo fatto un convegno anche a Sane esattamente un mese fa, partendo da quel grave fatto di frode che è avvenuto l'anno scorso nel Veronese e già in quella sede, nella tavola rotonda che c'è stata, abbiamo anticipato alcuni temi che penso verranno discursi oggi. Io voglio dire con estrema chiarezza che chiaramente ho letto come tutti il documento che è il contributo alla discussione che si farà oggi messo a punto da UPBio e che Michele Moneta aveva anticipato già al convegno di Sana ed è un contributo alla discussione importante. Io ripeto quello che ho detto in conclusione del convegno a Sana su questo punto, sicuramente il sistema deve essere profondamente riformato, credo che sarà molto difficile che la riforma arrivi dal lato istituzionale, del resto è esattamente dal 2003 che fra leggi delega e iniziative parlamentari stiamo aspettando una riforma del decreto legislativo 220 al 95 e meno male che c'è quello perché altrimenti saremo senza e non riusciamo a portare a casa nulla. Temo che anche questa legislatura che ormai si sta chiudendo non vedrà in fondo. Peraltro anche qui è uno di quei casi veramente buffi che caratterizzano questo settore. È l'unico testo che è in Commissione al Senato da inizio legislatura, bipartisan, emendato, ormai lavorato, in qualche maniera discusso, su cui ci siamo trovati tutti d'accordo. Basterebbe per farla approvare, come mi ha detto all'ultima audizione che abbiamo fatto a febbraio il Presidente Scarpa Bonanza Bora, 15 giorni di lavoro, per motivi ignoti è inchiodato nella Commissione bilancio perché ci sono un paio di articoli su dei fondi che furono messi all'epoca. Noi abbiamo detto, spero anche le altre organizzazioni del settore, togliete questi articoli perché chiaramente non si può far diventare una legge di spesa a quello che deve essere un intervento di riforma del sistema di certificazione organizzativa del settore. Abbiamo scritto al Presidente della Commissione competente al Senato e siamo ancora a fermi là. Quindi penso che purtroppo non riusciremo ad avere dal lato istituzionale una riforma e allora autoriformiamoci perché penso che non possiamo attendere oltre nel mettere in mano l'organizzazione del sistema di certificazione. Io colgo la sollecitazione che arriva dell'organismo unico in questa direzione qua sicuramente c'è bisogno di rivedere l'organizzazione del sistema attuale. Io l'ho detto anche quando mi sono ricandidato recentemente alla Presidenza di Federbio. Ne ridiscuteremo il 18 in Consiglio Direttivo. Credo che come minimo dobbiamo partire dal mettere insieme tutti i servizi e tutti quelli che sono gli aspetti che oggi sono moltiplicati enne volte nel funzionamento degli organismi di certificazione. Non ha senso avere 13 sistemi informatici, 13 amministrazioni, 13 addirittura modelli di lavoro sulle stesse cose che sono poi quelle che nel farle diverse, nel farle più o meno bene e più o meno male a volte creano i problemi. Questo è sicuramente un punto di partenza. Poi con le navità che stanno arrivando abbiamo un nuovo organismo di certificazione da poco che si chiama Valoritalia che lavora per oggi solamente nel vino ma fattura da solo direi quasi il doppio del fatturato attuale dei nove soci Federbio che peraltro certificano il 95% delle imprese del settore. Quindi mi pare una novità importante anche visti i soci, visto il tipo di organismo che è. Ieri è arrivata una circolare da parte di una direzione generale rispetto al lato centrale contro la qualità che intenderebbe stravolgere in maniera totale il sistema tarifario. Allora in una situazione tanto come dire agitata, per non dire altro, confusa, credo che sarebbe intelligente e responsabile da parte degli organismi di certificazione che io, come sapete, lavoro in questo settore dal 91, conosco abbastanza bene la storia, forse sono l'unica parte di questo settore che non è mai cambiata. Alla fine sono cambiate le sigle, sono cambiati i nomi ma alla fine quelli sono. Forse è venuto il momento che ci sia una volontà da parte di queste che sono imprese che quindi hanno le loro dinamiche di mettere a mano. E quindi è importante che gli azionisti di riferimento, perché questo va detto, le imprese che non sono ovviamente solo i soci di UPBio, ma il sistema di imprese nel suo complesso è quello che ha pagato. Fino ad oggi lo sviluppo, la crescita del sistema di certificazione, dicano la loro, quindi è importante che qui da oggi esca un punto di vista. Dico solo su questo che non credo alla soluzione proposta di mischiare nello stesso contenitore il pubblico e il privato e non credo che si debba fare un passo indietro rispetto alla scelta del sistema privato, per il semplice motivo che oggi tutto il mondo della certificazione è in quella direzione e soprattutto perderemmo quello che poi è l'investimento, il valore e quello che di buono comunque è stato fatto in questi vent'anni più di sviluppo del sistema. Aggiungo anche che il pubblico in questa situazione, in questo momento, l'abbiamo anche peraltro visto operare. Ricordo che noi abbiamo avuto qualche mese fa un organismo, anzi più volte, un organismo o più organismi revocati dal Ministero Politiche Agricole rispetto ai quali avrebbe dovuto operare lo stesso Ministero col proprio Ispettorato. Noi stiamo aspettando da maggio di avere una relazione sull'attività di controllo svolta. Peraltro non è un problema da poco perché su diverse di queste imprese a tutt'oggi non abbiamo neanche la certezza che sia stata fatta un'attività di controllo effettivamente come di essenza, soluzione di continuità che metta a riparo il mercato. Quindi sarei molto cauto francamente nell'andare in questa fase a invocare controlli pubblici. Aggiungo un'altra cosa che non è indifferente. Chi paga il sistema? Fino ad oggi l'hanno pagato le imprese, come lo pagano le imprese in tutti gli altri settori. Quindi anche questa polemica che nel biologico, siccome sono le imprese che pagano il sistema di certificazione, ci sono dubbi sulla serietà, mi pare francamente totalmente decontestualizzata. Non conosco sistemi di controllo di certificazione l'agroalimentare o in altri settori che non siano pagati alle imprese. Noi siamo fra quei pochi che per certi versi hanno o potrebbero avere invece un contributo pubblico rilevante. È stato ricordato anche nel documento la misura 132 dei vecchi PSR, che verrà confermata probabilmente anche nel nuovo, anche se c'è una discussione, se potranno entrare anche i vecchi o solamente i nuovi. Ecco, questa se fosse gestita in maniera diversa e seria, questa sì potrebbe consentire, e qui peccato che non è stato fatto un lavoro anche a livello di Stato membro nella discussione a Bruxelles, si poteva proporre, anziché questo giro perverso fra istituzione pubblica, produttore, organismo di certificazione, con tutte le dinamiche che ha provocato, che sono state ricordate, di cui discuterete, si poteva probabilmente avere una gestione unica a livello nazionale, è il Ministero che riconosce organismi di certificazione, il Ministero stabilisca quali sono i requisiti minimi dell'attività di controllo e il Ministero paghi attraverso le risorse, il Ministero delle Regioni, attraverso le risorse del PSR, un contributo totale o parziale al costo del controllo. Questa poteva e potrebbe essere una soluzione se si fosse lavorato anche qui in maniera intelligente con la riforma della PAC, perché poi adesso lo stiamo rivedendo. Questo può essere un ragionamento. Sul resto, credo che invece si debba andare nella direzione che ho detto prima, probabilmente è opportuno che in questo lavoro di riforma, le imprese stesse, più che le aziende agricole, penso alle imprese di trasformazione e distribuzione, che in questi anni hanno investito parecchio in loro sistemi di controllo e certificazione, creando uffici qualità, facendo attività, che abbiamo cercato di mettere al sistema come Federbio, anche queste siano coinvolte in questo processo di autoriforma del sistema. Anche queste sono risorse che credo vadano messe nella direzione di avere, non dico uno solo, ma insomma uno o poco più organismi di certificazione nuovi in cui il meglio di quello che oggi abbiamo e c'è nel sistema di certificazione, e ce n'è molto, e ce n'è molto, venga riproposto in un contenitore rinnovato e soprattutto facendo innovazione, innovazione organizzativa, innovazione di sistema, sperando di non essere ammazzati nel frattempo e finisco, perché ho ricordato prima un aspetto non da poco, che è questo delle tariffe, su cui si sta iniziando a discutere, l'altro tema che stiamo interfacciando in questi giorni con l'informatizzazione, che anche questo doveva essere, si spera sia, una grande innovazione anche sul versante del sistema di certificazione, perché avere finalmente un database unico collegato con il fascicolo aziendale è quello che ci avrebbe evitato il gatto con gli stivali e ci potrà evitare gli altri gatti con gli stivali, però anche qui non si dialoga fra i soggetti, non si coinvolgono le imprese, gli organismi di certificazione, si impongono partenze accelerate e ci troviamo a 10 giorni dal 1 di ottobre, che è la data di entrata in funzione del Sib, Sistema Informativo Biologico Nazionale, che non abbiamo, penso sia la prima volta in 20 anni, che gli organismi di certificazione non ricevono le 10 giorni una notifica e non sappiamo come ne usciremo. Allora, discutiamo rapidamente, questo è il mio appello finale e quindi ringrazio io, UPBio, per aver organizzato questa giornata e per aver messo avanti, spero mettere avanti anche oggi ulteriori affinamenti di una proposta, qualunque essa sia, perché poi, come ha ricordato Ignazio, ci confronteremo dentro Federbio con le altre componenti, perché secondo me qua di tempo ne abbiamo veramente poco per mettere avanti delle soluzioni nuove e idem per il secondo workshop, perché è vero che il mercato cresce, ma è anche vero che il mercato sta crescendo molto, sempre più lontano dalla produzione locale, sempre più lontano da una crescita della produzione agricola nazionale che non c'è. e allora probabilmente anche qui dobbiamo ripensare anche al modello di filiera, di organizzazione della distribuzione e su questo c'è sicuramente un grande tema organizzativo di rete su cui ho letto cose molto interessanti e su cui dobbiamo lavorare, anche qui, non solo dal lato dei produttori che oggi sono qui, ma anche mettendo in pista le altre componenti. Del resto, e chiudo davvero, se il gatto festivale è successo e se altre vicende di frode sono successe, è perché il mercato, prima ancora che il sistema di certificazione si è comportato in maniera scorretta, perché chi ha comprato a quei prezzi, chi ha comprato facendo finta di non vedere da chi comprava, chi ha fatto scelte da un punto di vista commerciale palesemente rischiose, per non dire altro, evidentemente ha consapevolmente operato in maniera eticamente scorretta, perché ovviamente questo va detto, purtroppo ha operato in quel modo potendo contare su un sistema di certificazione che aveva dei buchi e dei passaggi non coperti e su questo si è mosso. Quindi dobbiamo assolutamente discutere di entrambe queste situazioni, perché se mettiamo a posto il sistema di certificazione e non ridiamo al mercato un senso etico e un rapporto diretto con i territori, i consumatori e i produttori, non andiamo da nessuna parte e viceversa uguale, possiamo ragionare finché vogliamo di fidere corte, di rapporto diretto con produttori e territori, ma se poi un pezzo forte del mercato continua a lavorare con le navi che arrivano dalla Moldavia, dall'Ucraina o da queste situazioni qua, l'immagine del settore, ricordiamoci, è sempre una e una sola e quindi non vorrei vedere, come abbiamo già visto, che poi ci tocca dire io sono più biologico di qualcun altro. Questo è l'impegno che ha Federbio, quella di tenere tutto insieme il settore e soprattutto di far crescere tutto il settore. Quindi grazie e buon lavoro. Grazie a Paolo Carnemolla per il suo saluto che è stato tutt'altro che istituzionale, nel senso che è stato molto ricco di spunti e anche in parte di provocazione e di contributi al dibattito. È già stata anticipata, è già stata richiamata, la prima relazione del workshop sulla certificazione è affidata a Michele Munetta, che è vicepresidente di UPBio, che tratterà il sistema di controllo della produzione biologica a criticità e prospettive. Buongiorno a tutti. Una premessa. UPBio è vuoto. Bene, se Leonardo non l'ha caricata sulla penna, pensavo fosse... No, c'è, c'è. Non c'è Leonardo. Sì, faccio. Ok. Ok. Premettiamo che UPBio, contrariamente a questo, quello che potrebbe sembrare, non abbiamo la soluzione del problema in mano. Il nostro vuole essere un mero contributo alla discussione e alle riflessioni che ci saranno ora, ma non solo ora, ma immaginiamo e speriamo anche in futuro. Siamo consci di rappresentare un considerevole gruppo di aziende agricole biologiche italiane. 20.000 aziende circa rappresentano il 50% delle aziende agricole biologiche presenti oggi in Italia. quindi ci sentiamo in dovere di esprimere un parere sull'argomento. Il sistema di controllo ha fatto, in un certo senso, la fortuna del biologico, perché ha rassicurato un po' tutti gli operatori, ma soprattutto anche i consumatori, su alcuni punti fermi. ma oggi il momento è delicato. I consumatori non possono continuare a tollerare l'emergere di scandali e frodi nel mondo del bio, anche se, come si sta accertando, pare causate da persone che poco hanno a che vedere con il mondo del bio. Rischiamo che la crescita del bio possa subire una brusca battuta di arresto, a danno esclusivo degli operatori onesti. Non possiamo quindi tollerare questa facilità di raggiro del sistema a favore di una concorrenza sleale di speculatori e lestofanti. Siamo consapevoli che il fenomeno delle frodi non potrà mai essere completamente abolito nella nostra società. Analogamente nel mercato dei prodotti biologici non si potrà mai prevenire completamente il fenomeno delle frodi. Ma ogni singolo caso di frode scoperta deve essere un'occasione di riflessione. è ripensamento sui limiti dei sistemi, quindi un'occasione di crescita del settore, perché il sistema di assicurazione qualità deve essere flessibile ed adattabile. Nulla si può fare senza un'attenda valutazione e senza la necessaria gradualità, ovviamente. Rischieremo di buttare via il bambino e l'acqua sporca. Quello che oggi esiste, quindi, deve essere valorizzato, compreso il background degli organismi di giustificazione. E che non è poco. Come UPBio abbiamo un privilegio, che è quello di essere non solo l'associazione più rappresentativa dei produttori biologici italiani. Siamo anche parte integrante di FEDERBIO. Unica federazione interprofessionale a cui interno ci sono la maggioranza degli organismi di certificazione e di tecnici ispettori. Non casualmente oggi chiamati qui anche loro a dire la loro riguardo alle nostre proposte. E la nostra scelta di stare dentro FEDERBIO è quella di valorizzare il contributo di tutte le parti interessate allo sviluppo reale del biologico italiano. Dobbiamo quindi avere il coraggio e la consapevolezza di raggiungere una soluzione dei problemi, anche fosse tra quelle inimmaginabili fino a pochi mesi fa. Nessuna preclusione quindi ci deve essere nel dibattito. Né da parte pubblica, men che meno da parte degli organismi di certificazione. È necessaria una forte autocritica su quando e come si è proceduto finora. La chiave per contribuire a successo è la comunicazione tra operatori, organismi di controllo ed autorità. Pertanto, come produttori consapevoli di dover fornire garanzie ad un mercato ormai globalizzato, abbiamo l'obbligo di dire la nostra sul miglioramento del sistema di controllo e certificazione delle produzioni biologiche. Per questo oggi il seminario bio la certificazione che vorrei. Perché la certificazione? Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo incremento dell'attenzione del consumatore verso garanzie di qualità e sicurezza che, pensiamo, gli attuali sistemi di controllo ad oggi non soddisfano. E di recenti scandali ne sono la dimostrazione. Nelle avanguardie dei consumatori, i cosiddetti gas, la cultura della diffidenza è ormai radicata e cominciano a pensare ad una garanzia partecipata che, secondo noi, è utopistico pensare a costo zero e comunque adatta solo ed esclusivamente ad un'agricoltura di prossimità. Noi pensiamo che il consumatore debba essere garantito da tecnici esperti e qualificati. queste soluzioni alternative possono essere gradite agli ecofurbi, che vedono diminuire il rischio di essere scoperti, sanzionati o addirittura esclusi dal sistema. E questo non possiamo permetterlo, se vogliamo condizioni di partenza uguali per tutti i produttori e non per i disonesti. La certificazione biologica deve garantire qualità globale, a livello sia di processo sia di prodotto. Se sono quindi queste le ragioni dell'esistenza del sistema di giottificazione delle produzioni biologiche, ne discendono alcune valutazioni. Uno, il controllo e la conseguente certificazione sono un fatto in sé neutrale. Essi non danno maggiore o minore valore al prodotto biologico. Il controllo non è un mezzo tecnico in agricoltura che, a seconda del tipo impiegato, potrebbe condizionare la qualità del prodotto finale. Il certificato biologico per un prodotto bio equivale alla stessa sicurezza per un prodotto convenzionale, ovvero che non vi sono residui chimici oltre quelli consentiti dalla legge. Dunque, non ha alcun senso, secondo noi, che si dica che questo prodotto è certificato da X o da Y, perché chiunque faccia il controllo lo deve fare nel rispetto delle norme di legge, in modo oggettivo, né meglio né peggio di come il controllo deve essere fatto. Il costo del controllo non può essere a carico dei soli produttori, neppure con un successivo rimborso delle spese, come avviene oggi parzialmente, con pesantissimi ritardi, oneri documentali altissimi e solo in alcune regioni. Sarebbe come se chiedessimo all'agricoltore convenzionale di pagare le ASL o i NAS o altri organi pubblici che fanno la verifica sui prodotti se contengono residui chimici oltre il consentito. Il controllo biologico è un fatto di interesse pubblico che coinvolge, quindi, gli inviolabili diritti alla salute dei consumatori, ma anche la salute dei produttori, cioè di tutta la società. esattamente come il controllo di qualunque altro prodotto alimentare ottenuto nel rispetto delle normative di legge. Non necessariamente dall'affermazione che il controllo biologico è un fatto di interesse pubblico discende l'altra affermazione che il controllo deve essere gestito dall'ente pubblico. Anche se possibile, ci ragioneremo. Come funziona oggi? Il proliferare dei diversi regolamenti e standard internazionali, Bio, EU, NOP, Cina, eccetera, oltre a rappresentare una barriera agli scambi commerciali, certamente non aiutano noi operatori nella comprensione delle regole. E se non aiutano noi, figurarsi il consumatore. Vi è una mancanza di reciprocità o bilateralità nel principio di equivalenza, soprattutto a favore di quelle importazioni da Paesi terzi di prodotti non conformi agli standard europei. Non possiamo continuare ad assistere a massicce importazioni di materie prime da altri Paesi dove non valgono le stesse regole igieniche, sanitarie, di sicurezza e mancato sfruttamento del lavoro che valgono in Italia. Per poi assistere magari ad una successiva rilavorazione e spacciare il prodotto come made in Italy. Penso all'olio, ai legumi, la pasta, eccetera. Almeno indichiamolo in etichetta la provenienza della materia prima. Negli stessi Paesi membri vi è disomogeneità sull'attuazione del sistema di certificazione degli stessi ODC in cui la gestione delle non conformità e delle relative sanzioni sono difforme fra Stato e Stato. Vi è un insufficiente controllo sulle produzioni provenienti da Paesi terzi o persino da altri Paesi europei. Vedi il recente caso della frute in Romania. Le difficoltà di collaborazione fra autorità competenti pubbliche, organismi di accreditamento e organismi di certificazione generano confusione e rendono poco affidabile e trasparente l'intero sistema, in particolare nello scambio delle informazioni. Troppi ODC che si fanno la concorrenza, spesso a ribasso economico, con conseguente scadimento della qualità del servizio. Troppa disomogeneità sulle modalità di controllo e sui funzionamenti dei sistemi di controllo, tra organismi di controllo e organismi di controllo e tra regioni e regioni. Le nostre proposte. Riteniamo che sia giunto il momento di una rifondazione della certificazione bio. Ma davvero immaginiamo che solo perché paghiamo un organismo di certificazione questi ci certificherà imparzialmente i nostri prodotti al meglio? E quindi meglio lo paghiamo, meglio ci certifica? Quanto ancora questa anomalia tra controllore e controllato? E per quanto dobbiamo continuare a chiedere certificati di conformità cartacei e aggiornati a presunti fornitori in regola quando dovrebbe essere sufficiente in un sistema univoco per chiunque, consumatore compreso, accendere il pc e verificare la storia bio del nostro fornitore. L'eccessiva burocratizzazione mette in ginocchio i produttori, soprattutto i piccoli che non possono permettersi un addetto per queste attività e quindi costretti ad uscire dal sistema, come Dio mostrano le ultime statistiche. E guardano questi produttori sempre con più interesse a quella garanzia partecipata tanto affascinante quanto pericolosa. A danno degli stessi organismi di certificazioni per i mancati introiti. È necessario fissare criteri specifici e stabilire deroghe per le piccole aziende e pensare a digentivare i sistemi di certificazioni di gruppo. Che senso ha certificare separatamente cento piccole aziende consorziate che a loro interno hanno un tecnico preparato che garantisce lo standard bio? Dobbiamo ancora per molto continuare ad assistere al proliferare di organismi di certificazione. L'ultimo il mese scorso, come diceva Paolo, è le loro rispettive sedi, una per ogni ente in ogni città, che paghiamo noi e di conseguenza il consumatore e quindi il biologico in generale inteso ancora come prodotto di nicchia per gli alti prezzi, perlomeno in Italia. E a noi piace pensare al biologico come ad un prodotto destinato alla massa dei consumatori, se vogliamo ottimizzare i benefici per la salute umana e per l'ambiente. Non sarebbe quindi sufficiente un unico ufficio in ogni capoluogo con economie di scala notevoli anche per gli organismi di certificazione? Davvero dobbiamo continuare ancora ad affidarci alla professionalità ed efficità di controllori di turno, anche alle prime armi, che se va bene sono tecnici agronomi neolaureati, se non addirittura diplomati in altre discipline, freschi di corso bio. Occorre molta professionalità per capire se un agricoltore rispetta o meno i disciplinari di produzione. E ancora di più se questo avviene per una frode deliberata o per un mero errore. E certo non lo si può garantire con personale precario e con forte turnover. E non sarebbe logico che la maggior parte del lavoro di certificazione venisse svolto da tecnici imparziali dipendenti dell'ente di certificazione, piuttosto che lavoratori a cottimo. Dobbiamo secondo noi necessariamente pensare ad un ente unico di certificazione, che certifichi tutti imparzialmente, in egual modo, con gli stessi standard e dagli stessi costi per tutti. Meglio ancora se pubblico o almeno privato, ma con partecipazione pubblica del Ministero e delle Regioni. Con compiti specifici nella garanzia di omogeneità di formazione e comportamento di tutti i controllori. Per la gestione vediamo quindi due alternative. Una gestione totalmente pubblica che assorbe il personale degli attuali organismi di certificazione, previa selezione, formazione e aggiornamento. Per un'ipotesi del genere vanno valutate tante cose, certo, compreso il monopolio che si potrebbe creare. Ma non possiamo scandalizzarci di pensarlo, visto che in altri Paesi questo avviene. studiamo come ciò avviene negli altri Paesi e valutiamo pro e contro e se applicabile anche in Italia. In alternativa avremo una gestione mista con un ente privato convenzionato che unifica gli attuali organismi di certificazione, ne assorbe il personale ed abbia nei suoi organi di gestione la partecipazione del Ministero e i rappresentanti delle Regioni. In entrambi i casi il costo dovrebbe rientrare nel bilancio della pubblica amministrazione. In alternativa, comunque, la tariffa viene fissata unica sul territorio nazionale per fasce di ampiezza e complessità delle aziende. Naturalmente rimborsabile sui PSR, ma con direttiva nazionale di linea guida discussa con e fatta propria dalle regioni. È resa obbligatoria in ogni PSR. Anche il controllo delle importazioni deve necessariamente ricadere sotto questo ente unico, pubblico o privato che sia. Non sappiamo quanto tempo occorrerà ancora per realizzare tutto questo, ma se occorreranno anni, forse sarà troppo tardi. Cosa chiediamo da subito al Ministero? Analisi tecnico-economiche per monitorare periodicamente l'efficienza degli attuali sistemi di giustificazione. Metodologia oggi assente o inefficiente, sia a livello di autorità competente che degli stessi organismi di controllo. Una gestione informatica univoca che, oltre ad assicurare il consumatore sull'efficacia dello stesso, non generi un appesantimento burocratico e un incremento dei costi per l'intero sistema produttivo. Benvenga dunque il nuovo sistema informativo biologico Sib. Anche se molto ci sarebbe da interrogarsi su quanto avrebbe potuto essere efficiente se solo avessimo potuto ragionare assieme e meglio, sulla base anche delle esperienze degli organismi di certificazione e dei già testati sistemi informatici di alcune regioni. È discutibile anche la scelta di delegare gli inserimenti delle notifiche ai CA o in alternativa alle associazioni o ancora ai liberi professionisti. Sarebbe stato di gran lunga meglio delegare tutti indistintamente aziende bio e ODC compresi. Anche per non generare monopoli locali e di prezzo per l'inserimento dei dati è lasciare al singolo operatore il libero arbitrio della scelta. Come operatore potrei non fidarmi del mio CA ma avere un professionista fidato che inserisce per me quanto io affermo e sottoscrivo o viceversa. Oppure se ne ho le capacità lo inserisco direttamente perché nessuno lo farebbe meglio di me generando anche economie nella mia azienda visto che nessun altro lo farebbe gratuitamente. Se davvero vogliamo ridurre il carico burocratico ed economico per gli operatori questo dobbiamo fare. Molto vi è da lavorare anche negli accordi sull'armonizzazione delle norme a livello internazionale. L'UE non può continuare a permettere il protezionismo esplicito di alcuni paesi terzi che determina un mercato di scambio unilaterale e una concorrenza sleale con danno enorme per i produttori e a vantaggio di pochi. Garantire quindi nelle sedi opportune che le regole che valgono in Italia valgono in tutto il mondo o viceversa. Siamo desiderosi di accettare le sfide internazionali ma su regole certe per tutti. Come operatori non possiamo che avere un sogno one world one standard. Cosa chiediamo da subito agli organismi di giustificazione? Diminuzione dei controlli burocratico-amministrativi ed incremento di quelli storico-agronomici. Tanta carta, tanti documenti con il risultato che il peso del controllo è tutto sbilanciato come onere verso l'agricoltura che per produrre i documenti deve sostenere altri oneri consulenti per dimostrare che sta rispettando le norme. Cioè che non adotta trattamenti chimici e che non inquina l'ambiente. Bel trattamento davvero. Un'azienda agricola impiega quasi la metà del proprio lavoro in burocrazia. È come se noi entrassimo nei nostri cambi solo da luglio a dicembre e da gennaio a giugno tra i vari uffici e a scrivere carte. Questo accade nel convenzionale. Lascio immaginare nel biologico. Il risultato è che il 2% delle aziende agricole lo scorso anno, anche per questo, ha abbandonato il bio a favore del convenzionale. A danno quindi per l'ambiente, il mercato e gli stessi organismi di controllo. Abbiamo già detto che esigiamo tecnici controllori non precari e mal pagati, perché molto ricambio significa poca professionalità. La formazione è fatta dagli stessi organismi di certificazione, legittimo visto che si tratta del loro personale, ma ciò significa che i tecnici sono formati su differenti modalità di gestione dei diversi organismi di certificazione e non faranno altro che replicare nel loro operato le diverse modalità di gestione. Occorre definire chiare modalità di retribuzione dell'ispettore dell'organismo di certificazione per fugare eventuali possibili risvolti negativi sull'efficacia dell'ispezione. Dalla lezione Gatto con gli stivali emerge chiaramente la presenza di tariffari degli organismi di certificazione a percentuale, che sono un elemento di debolezza del sistema di controllo. Più si fattura, più l'ente guadagna. Ovviamente utilizzato ampie mani per insinuare cointeressenza nelle frodi oppure, peggio ancora, totale disinteresse nei confronti degli effettivi comportamenti dell'impresa, purché il fatturato cresca e gli ispettori si paghino sempre meno. Un prodotto a residuo zero non necessariamente un prodotto bio. Per stanare gli ecofurbi di turno, occorre ampliare le analisi di verifica sulla reale assenza di residui anche sulla pianta e sul terreno, oltre che sui frutti. E specializzare le analisi per verificare la presenza di nutrienti delle piante non di origine organica. Occorre perseguire la inflessibilità del sistema di controllo e certificazione nel caso non vengono rispettati i requisiti stabiliti dagli standard. E concludiamo. Queste sono solo alcune delle questioni su cui siamo oggi tenuti a riflettere. E attendiamo molto da questa giornata riguardante la certificazione bio, non solo, ma anche la commercializzazione fatta dai produttori. Abbiamo ben pensato, e ce ne scuserete, di risparmiare tempo e denaro, concentrando gli argomenti in un'unica giornata. Giornata intensa, quindi, ma nel perfetto stile dell'efficienza agricola orientata al risparmio e che le casse UPBio ci impongono. Buon lavoro. Grazie a Michele Monetta per la relazione che penso tutti voi abbiate apprezzato per la ricchezza di spunti e di temi che sono stati messi sul tappeto. Siamo perfettamente nei tempi, quindi invito anche i relatori successivi a rimanere nei tempi assegnati in modo da evitarmi l'ingrado compito di sollecitarvi. Prima di andare avanti chiedo una cortesia, siccome la sala è già abbastanza piena, se avete accanto a voi dei posti liberi, se potete evitare di mettere borze o giacche, in modo che le persone indietro individuano i posti e si possono sedere. Qui davanti c'è un posto, va bene. Quindi le persone indietro, se vi orientate, trovate sicuramente posto. Passo la parola a Fabrizio Piva, che è il coordinatore della sezione Soci Organismi di Controllo di Federbio, che ci parlerà di organismi di controllo e il futuro della certificazione biologica. Bene, buongiorno a tutti. Speriamo, dopo quello che abbiamo sentito, che il futuro ci sia ancora. Sì, sì, sì. Ah, beh. Devo uscire. Vado sulla mia. Ok. Scegli tu, palenze. Vanno tutte e due. Sì, sì. Sì, la mia relazione sarà divisa in due parti. Avrà una parte di cronaca e una parte di opinioni. La cronaca serve per dimostrare come il sistema di certificazione italiano, che non è fatto dagli organismi di certificazione. Gli organismi di certificazione sono una piccola parte del sistema di certificazione. Il sistema di certificazione è qualcosa di molto più complesso, come vedrete. è un qualcosa che coinvolge in primis il mondo della produzione, dove io per mondo della produzione intendo la produzione che va dall'azienda agricola fino alla grande distribuzione, perché è un processo produttivo... Non si sente? Sto più vicino? Sto più vicino? Bene. Bene. E quindi, dicevo, non ci sono solamente gli organismi. Abbiamo il mondo della produzione, abbiamo il mondo dell'amministrazione pubblica, che è stata citata. Abbiamo un organismo di accreditamento, perché qui ci siamo dimenticati che il regolamento comunitario, così come molte altre legislazioni internazionali, vi è un attore fondamentale che è colui che accredita e che garantisce che le nostre produzioni e le nostre attività siano accettate in tutto il mondo. Al di là del fatto che siano conformi o meno a uno standard pubblico, in primis ci deve essere un accreditamento e il fatto che noi dobbiamo comunque avere alcuni requisiti. Quindi, detto questo, vediamo qui se riusciamo a vederci. Ok. Va bene, questi sono gli organismi associati. Gli organismi associati sono 9 su 13, 15 quelli che sono oggi e poi ci sono anche quelli autorizzati a Bolzano, chiaramente, che sono autorizzati dalla provincia. Allora, alcuni numeri. Intanto, già prima Carnemolla diceva prima, come Federbio noi controlliamo circa il 95% e il 94% circa degli operatori italiani, dove abbiamo, qui li vedete distinti, dal 2006 al 2011, fra produttori, trasformatori, importatori, eccetera. Sono 45.477 erano al 31-12-2011. Le verifiche ispettive eseguite, anche qui, qui trovate il totale delle verifiche fatte da questi organismi per le diverse categorie di operatori e la media per azienda. Vedete che la media per azienda si è incrementata negli anni. Vorrei precisare che questi numeri, a livello europeo, in altri paesi che normalmente ci vengono a dare delle lezioni, se li sognano, perché 1,33 ad azienda in Italia è una delle più alte. Tenete presente che la linea guida sui controlli emanata dall'Unione Europea qualche anno fa concedeva un 10% in più come eccesso rispetto a quella che è il minimo la verifica ispettiva annua. Questi sono numeri che vanno tenuti in considerazione, perché spesso noi in Italia tendiamo, talvolta anche giustamente, a parlarci male addosso. Però poi, quando andiamo all'estero e come qualcuno di noi ha la fortuna, l'opportunità di confrontarsi con i propri colleghi a livello internazionale, poi alla fine le cose non è che siano messe così male. Certamente dobbiamo ragionarci, dobbiamo confrontarci come stiamo facendo oggi per migliorare, sia chiaro. Per quanto concerne i controlli analitici che abbiamo citato prima, qui avete una serie di numeri, vi dico solo che i produttori nel 2011 sono stati controllati il 7,2% a livello analitico dei produttori agricoli, con una positività dell'8,17%, i trasformatori, ben quasi un terzo dei trasformatori sono stati controllati sul piano analitico, cioè prelevati i campioni e fate analisi, con una positività del 6,42%, gli importatori tanto vituperati, talvolta in maniera giusta, sono stati controllati al 33,76%, quindi abbiamo anche risposto a una richiesta anche del MIPAF con il decreto importazioni di aumentare quella che è la classe di rischio e quindi il numero di controlli presso gli importatori, gli altri che sono i produttori trasformatori, come coloro che con la multifunzionalità producono e trasformano, molti di voi anche, un 34%, in totale abbiamo una positività del 7,47%, anche qui quando parliamo di positività ricordiamo che è al di sopra dello 0,01 parte per milione, non confrontiamo questi dati con le positività della produzione convenzionale che chiaramente si riferisce a valori molto più alti, cioè i livelli massimi di residuo. Le non conformità rilevate, qui trovate una distinzione fra le irregolarità e le infrazioni che sono più gravi, vedete che nel 2011 il 23% degli operatori italiani si sono portati a casa delle irregolarità e il 3,33% delle infrazioni, anche questi sono dati del tutto confrontabili a livello europeo con altri paesi simili a noi. Le sanzioni, mi limito il 2011, poi la relazione è disponibile.